Buonasera amici Nerazzurri, io sono Luigi Nerazzurro, allora stasera si è disputata Valencia Inter valida per il trofeo B-Win Cup Anche se è stato chiamato in un altro nome, si vede che è un trofeo storico che fanno loro E noi è la prima volta che partecipiamo, non mi sembra che altri stati l'abbiamo fatto Comunque, Valencia Inter, allora, primo tempo ho visto un Inter che per la prima volta era più passiva che attiva Ha subito un po' troppo secondo i miei gusti Ho visto qualche lettura difensiva sbagliata, troppi errori nelle letture difensive Mi sa che ancora devono entrare, ma ci sta, i meccanismi dell'allenatore Infatti l'1-0 nasce proprio da una lettura sbagliata in difesa Poi nel secondo tempo finalmente si è vista l'Inter aggressiva Quella che pressa, quella che prende palla, quella che cerca di organizzare il gioco Quella che tiene il pallino del gioco in mano Fino a quando Esposito non si guadagna il calcio di rigore Che viene realizzato da Matteo Politano Dopo l'1-1 si vede poco, ma all'89esima partita quasi finita Errore, lettura sbagliata in difesa 1-1 contro Andanovic Portiere battuto e De Vrij ci salva davanti la linea a porta vuota Per coloro che dicono che ci sono difensori più bravi di De Vrij Tipo Romagnoli, che è una cosa del genere Non sta né in cielo né in terra Finisce la partita 1-1 Quando si va ai calci di rigore Segnano sei rigori su sei entrambe le squadre Si arriva al settimo calcio di rigore Quando sbagliano loro tirando il pallone praticamente in tribuna Praticamente fuori lo stadio Tipo meta, tipo football americano, tipo rugby Una cosa del genere Il rigore decisivo per noi Ce lo hanno ai piedi bastoni Non si fa prendere dall'emozione E segna il 7-6 E portiamo a casa il secondo trofeo amichevole Che schifo non fa E qualcosina di soldi Entra pure perché E' pur sempre qualcosa che vinci Quindi fa sempre comodo E soprattutto fa morale Però è ovvio che Essendo che comunque La tattica è nuova Lo schema è nuovo Ancora bisogna entrare nei meccanismi E negli ingranaggi di gioco di Conte Perché si è visto a livello difensivo Che alcune letture Quando una squadra ti prende in velocità A volte c'è qualcosa Che non torna E che non quadra Per il resto io vedo un atteggiamento Veramente bello dell'Inter Che prova a giocare A far gioco E non la vedevo così da anni Quindi sono veramente soddisfatto Adesso non vedo l'ora che in squadra Si integri anche Lukaku Per vedere come E quanto ci metterà a integrarsi Anche se io penso che ci metterà poco Io penso No penso Alla prima di campionato Già giocherà perché il 26 L'Inter gioca il posticipo Contro il Lecce Ragazzi se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate Fatemi sapere cosa ne pensate Di questo Valencia-Inter Condividete Iscrivetevi al canale Di Luigi Nerazzurro Io vi saluto Nel bene e nel male Sempre forza Inter Forza Inter